Nuovi problemi di salute per Francesco Chiofalo. Dopo il tumore al cervello di qualche anno fa il lenticchio di Temptation Island dovrà affrontare una nuova operazione chirurgica. Di recente l'ex fidanzato di Antonella Fiordelisi si è sottoposto ad una risonanza magnetica di routine dalla quale è emerso che nel condotto nasale che collega la bocca fino alla gola c'è una palla nera. Il personal trainer e influencer ha spiegato ai suoi follower che non è ancora chiaro se si tratti di una ciste o di un tumore e che sarà la biopsia a stabilirlo. A breve Chiofalo dovrà essere operato perché potrebbero sorgere importanti problemi di respirazione se l'intruso non sarà riuscito. L'intervento si terrà al San Camillo di Roma, città dove il personaggio tv è nato e cresciuto e dove vive ancora oggi. Francesco si è detto tranquillo e pronto ad affrontare tutto quello che sarà. Con la speranza che non si tratti di nuovo di un cancro. In questi giorni complicati Francesco Chiofalo può contare sulla sua compagna Drusilla Gucci. L'enticchio e l'ereditiera fanno coppia fissa dallo scorso giugno. Si sono incontrati per motivi di lavoro e si sono innamorati. Una coppia che ha destato fin da subito scalpore per via delle grosse differenze tra Francesco e Drusilla. Proprio quelle differenze, però, hanno unito Chiofalo e la Gucci. Oggi più innamorati. In alcune interviste Francesco Chiofalo non ha esitato a definire Drusilla Gucci la donna giusta. Quella con la quale realizzare sogni importanti come il matrimonio e dei figli. Al momento, però, la relazione procede a distanza. Francesco vive a Roma mentre la Gucci abita ancora a Firenze con la sua famiglia. Drusilla è molto legata alla madre Stefania. Che non ha esitato ad esprimere più di qualche perplessità su questo rapporto della figlia. La donna ha confidato di apprezzare molto la solarità e la vivacità di Francesco Chiofalo, ma di essere preoccupata per le numerose differenze con l'ex naufraga dell'isola. Chiafalo 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 Grazie a tutti.